Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Poi subito dopo ha deciso di darmi una ricetta, quindi praticamente con la T accediamo al tablet, ovviamente qua abbiamo le recensioni, non ve l'avevo fatto vedere in pare, e qua tra l'altro qualcuno gli abbiamo dato un bicchiere sporco, quello che dice Grida Vendetta. Ho aperto per sbaglio, ho scoperto che se io clicco qui parte la giornata, se io riclicco la partita finisce, quindi la partita alla giornata, quindi non ho perdite, se io chiudo subito però perdo un giorno, non so se questo cambi qualcosa a livello di trama. Qua abbiamo una serie di birre da fare, American Pale Ale, che è quella che davamo la volta scorsa, l'abbiamo quasi quasi finita, adesso non so da quanto sia questo fusto qui, però è quasi finita, 20 litri e ne abbiamo 2-3 circa, quindi l'abbiamo quasi finita. Quindi apriamo il tablet, andiamo sulla ricetta e facciamo il PIN, quindi ci resta assegnato quello di cui abbiamo bisogno. Ora dobbiamo prendere il pot dall'inventario, perché lui ci ha dato anche un pacco con dentro un sacco di roba, quindi prendiamo il pot e questo riprende Brewmaster, l'altro gioco che avevamo portato, nonché Cooking Simulator. Riempiamo 5 litri e 3, quindi adesso pure. Ok, 5.300, 5,3. Ok. Boiling Water, quindi lo mettiamo qui. E on... Qual è il fuoco però? Quello no, questo no, quello no, ok, ho già giusto, quindi questo. Adesso non ci si può abbassare, però no, logica, sì. Adding the malt. Il malto è questo. Look at it, per essere... Aggiungi 1.300 di malto. 1.300. Ah, con que di... Ah, 100 alla volta, gli metto giù. Eh, no, 50. Allora, abbiamo dato 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. Un melisa. Ok, e 10. Ok, dovevo aver messo giù sufficiente. credo adesso io qua non ho esperti in linea che possono darmi una mano però aggiungi 1300 ml di extract vediamo se ho qualcosa no è quello 1,1300 ml di extract no è giusto water 5 credo sia quello è malte extract boh io adesso devo continuare a metterglielo giù io continuo ma ok ok ne voleva un zig di più era giusto lo metto lì walk to the port lucatite per se to start adding up adding up quindi ok quanto 10 grammi quindi metto 10 ok metto via appoggio lì wait fino a quando bolle bolle per 60 minuti turn off the store the way ok mi son perso sta bollendo da una vita quindi spero sia venuto lo stesso poi sarà una figata quando faremo questo e saremo pratici quindi lo faremo a memoria quando scenderà a temperatura ambiente di 21 gradi quindi non so 21 gradi take the bag with east ok prendiamo lievito e gliene aggiungiamo quanto si aggiunge tutto questo 10 ml no 5 grammi quindi 5 perfetto exit poi pic the pot vai al fermentato lo versiamo all'interno a che deve fare che attenzione ok bello 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 perché non è eccessivamente macchinosa questa cosa del del versare ok fammelo rimettere qui lucatite fermanente c'è un bacio e to put a lid ok per mettervi il coperchio ok li mettiamo qua c'è il lo sfiatatore di come si chiama anche fai gorgogli ok produciamo non so cosa sia questo a per quanto tempo saranno eccitati dalla cosa e poi passano cinque giorni poi tornano di nuovo fuori di testa edit via press u to un pin di rsp ok premo la u che me lo toglie bene dovrei aver fatto tutto ok entra to edit via american no la chiamiamo questa la indy indy pale ale prezzo ok fa in alvadas sitting ok sempre lui ora c'è o qualcosa anch'io di distillatore anche fare soldi a questa birra vai fai la birra è pronta io spero poi magari qualcuno lo avrà già giocato ci si intenderà spero poi ci lasciano liberi andando avanti insomma poi ovvio che nel momento in cui ti lasciano libero ti annoi perché non hai più niente da scoprire però magari ci danno il la e poi sblocchiamo noi pick up the fermentation bucket e buttalo nella botte lì ah no mettilo vicino ok lo mettiamo qui tolgo lead no lo metto lì near the keg ok disconnect the beer keg ok pick up the connection tube ok look at the fermentation ok e lo colleghiamo qua sì come lo lascia connette motivo massimo ma lontano ok no perché questo qua secondo me va sviluppato completamente e lo svuotiamo subito di qua ciò che è un peccato ok adesso disconnect punto quello punto questo devo metterlo più in alto per iniziare trasferimento che figata ok lo metto lo metto lì e disconnetto ok quindi qui ce n'è ancora qui ce n'è ancora ok abbiamo la birra prodotta da noi che la indie pale ale ok lo che meno per ok e possiamo aggiungerla ok abbiamo la indie pale ale e quindi qui iniziamo a a produrre ora andiamo nelle mail perché qua vedete che ci sono altre cose da sbloccare help me help you ho collaborato con tuo nonno e devo fare un tipo di birra al far al sapore di limone con queste specifiche quindi ora accetterò la questa e andremo avanti con il gioco ma lo scopo di questo video finisce qui nel senso volevo farvi vedere anche la parte di creazione della birra fatemi sapere anche qui cosa ne pensate e alla prossima ciao ciao